Il dono più grande che Dio ha fatto a ciascuno di voi, di noi, è la vita. E la vita fa parte di un altro dono divino originario, che è il Creatto. Tutti dovremmo sentire la grande responsabilità di custodire adeguatamente il Creatto e averne cura, proteggendolo dalle diverse forme di degrado. Abbiamo il compito di conservare e consegnare integro alle future generazioni il pianeta che abbiamo ricevuto come dono gratuito della bontà di Dio. In occasione della giornata del dono 2017, Papa Francesco ha incontrato i partecipanti all'incontro promosso dall'Istituto Italiano della Donazione, precisando che l'amore di Gesù si sostanzia nel servizio agli altri, un amore che sa abbassarsi, che rifiuta ogni forma di violenza, un amore disarmato che si rivela più forte dell'odio. E il dono che si celebra in Italia il 4 ottobre, ha rimarcato il Pontefice, non è qualcosa di astratto, ma un atteggiamento e un'azione che hanno le proprie radici nel messaggio del Vangelo. Tutti, a concluso, specialmente i ragazzi e i giovani, sono chiamati a fare la stupenda esperienza del dono, un'esperienza educativa che fa crescere umanamente e spiritualmente, aprendo la mente e il cuore agli ampi spazi della fraternità e della condivisione.